Che cosa ti è rimasto da questo incontro? Che noi ragazzi siamo un po' superficiali, non capiamo il pericolo a cui andiamo incontro quando non seguiamo il codice della strada. L'utilizzo del telefono, quindi la dipendenza da smartphone, ci porta ad avere maggiore distrazione alla guida. L'alcol alla guida, ragazzi, come sono ragazzo io, anche voi potete non mettervi alla guida perché è molto pericoloso. Noi giovani certe volte non ci regoliamo sul pericolo della strada, usiamo degli atteggiamenti che non dovremmo usare. C'è una maggiore consapevolezza ora verso i rischi legati all'uso di alcol, alla disattenzione e alla necessità di un maggiore rispetto delle regole sulla strada. C'entra l'obiettivo l'incontro-confronto, promosso questa mattina presso la sede dell'ente di formazione Tecnoscuola di Battipaglia che, con l'istituto paritario Giacomo Leopardi, ha ospitato una tappa del road show Siisaggio Guida Sicuro, il progetto promosso dall'Associazione Meridiani che prevede la partecipazione delle classi degli istituti di primo e secondo grado della campagna ad un concorso di idee, Inventa, una soluzione per la sicurezza stradale. Ma oltre a presentare l'iniziativa, il confronto ha consentito agli studenti di sentire dalla diretta voce di chi si occupa del rispetto delle regole sulla strada come i rappresentanti delle forze dell'ordine l'importanza di un comportamento corretto. Comandante, l'uso del telefonino è uno dei principali problemi anche per questi ragazzi? L'uso del telefonino, l'abuso di alcol, l'uso di sostanze stupefagenti sono tutti quei segnali, quei pericoli che stanno a monte di questi gravissimi incidenti stradali. Spesso si sottovaluta anche il rispetto delle regole? Spesso si sottovalutano e questo incontro è proprio quello di sensibilità ai ragazzi e agli studenti in fasce di età, dove più sono presenti questi fenomeni, questi abusi, questi comportamenti che vanno al di là di quelli che sono i canonici comportamenti che dovrebbe avere un ragazzo e quindi cerchiamo di fare il nostro meglio per aiutarli. Soddisfatti per l'esito dell'incontro, che ha visto la partecipazione anche della sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, e del consigliere regionale Franco Pigarone, i due dirigenti che hanno promosso e voluto l'incontro, la preside Silvana D'Aiutolo e il direttore del centro formativo Tecnoscuola Edmondo Gallo. Questa iniziativa è nata da un'idea di Edmondo Gallo, il titolare della Tecnoscuola. Io devo dire la verità, avevo già letto dell'iniziativa Sì, saggio, guida, sicuro, messa a punto dall'Associazione Meridiane, con il supporto del Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e con il patrocinio della Regione Campania. Mi è piaciuta molto l'iniziativa perché oggi, come non mai, il problema della mobilità stradale è un problema di rilevanza nazionale. Tanto è vero che la comunità europea ha stabilito il decennio 2011-2020 come arco di tempo nel quale tutti gli Stati membri dovevano mettere a punto iniziative per cercare di dimezzare almeno del 50% il numero degli incidenti. Perché Tecnoscuola ha voluto questa iniziativa? Tecnoscuola è da sempre vicino a questa iniziativa dei Meridiani, Sì, saggio, guida, sicuro. Perché teniamo alla cultura, in questo caso alla cultura stradale, all'educazione, diciamo, alla guida. E quindi è un momento importante. Dove c'è cultura, Tecnoscuola c'è. Quanto è importante arrivare ai ragazzi per far capire loro l'importanza della sicurezza stradale e il rispetto delle regole? È importantissimo perché, ripeto, non solo bisogna educarli all'educazione stradale, ma fa sì che attraverso l'educazione e la guida loro possano prevenire quelle che poi sono le tragedie generalmente del sabato sera. Non a caso, ieri ce n'è stata una, ieri mattina, che mi è interessato da vicino. Quindi veramente ci teniamo a questa manifestazione.